ahahah ma erico tu che livello sei? 11 ah e allora secondo me dobbiamo dare la leader a uno più basso di livello raga eh per vedere le missioni si ma non è che più o altro anche se sono altri guardiamo più expo almeno eh ma... mica tanto eh sono un po' più tosti guarda quelli sono di livello sei beh allora cosa si fa io chi è l'ambulanza? eh la mia porca pupazza c'è l'ambulanza no Darko no Darko no no è che ti posso sempre difendere però eh lo volevano prendere Darko ammazzate da dietro le spalle sono venuti forse erano nascosti nel camioncino no no è caduto giù della macchina quello ah vengono da dietro eh eh mica scema sono fami sono fami sono fami ho fatto il giro ma solo io li avevo visti no anche io infatti mi sono messo a difenderlo Darko ma ormai era già morto attenzione che sono anche in alto eh attenzione in alto sono cecchini e sono anche boss ci pensa Darko a quelli in alto Darko tu devi pensare a curacce ah è vero allora ci penso io a quelli in alto ma come fai a vedere le vite delle altre persone? ah ok ok oppure anche a destra c'è ah ecco si si tu controlla tutti così ecco tu guarda le vite però se metto il mirino non vedo più le fatture le vite Ricco ha poca vita no beh ne ha tanta ne ha tanta ma ha un mezzo quadratino un quarto no adesso è tutto pieno hai visto non c'è bisogno che spreco roba io faccio telecronaca cronizzo tutto ok Ricco ha perso un pochettino di vita eh sto curando io adesso dobbiamo salire no si no vado io su a recuperare qualcosa se c'è se no c'è giusto anch'io sto a livello 6 ti dico ma guarda sta rabbina oh ma non ti puoi girare un attimo che ti fa le casse porca puttana si impegnero le cavallette ahahah ma c'è per tutte e due oh mica aspetta un attimo no no non c'era ce ne sono per te mica al cecchino ma che davvero c'è lo giuro sono tre cecchini mi sembra ma dove la scusa ah 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 io pensavo che era per tutte e due vado io al cecchino faccio il cecchino mancato mancato stanno ballando non riesco a prendere neanch'io mancato 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 oh cos'è quella luce è il cecchino oh uno è andato è quando ti punta ah sottotiro è sottotiro il nemico oh preso andiamo ma c'è anche la pvp di questo gioco si si attenzione quello quello beh quello lì è facile è stato facile ce l'hai davanti eh poi stava mirando qualcun altro te ritiri eh c'avevo il fucile di precisione mamma mia che fucilozzo che ho preso toriglia ma non vedi questo che sta massacrando le spalle mani mortacci vai che profitto per provare a curati vai vai a cura cura lara madonna tutta la vita gli hai curato hai visto attenzione altri nemici bello sono un proprio c'è la seconda ondata eh vai a dire raga a dire quello è è l'entrata di un autostrada tipo sì eh non è andato non si è spostato no forse di un parcheggio attenzione che qui ci sono i cecchini eh dove in alto oh ma ce l'hanno come con la torrettina così almeno si picchiano con la torretta attenzione vai buttagli la bomba che sono lì tutti vicini oh oh voi siete la sopra io come vi curo dalla sopra però adesso non è ancora carico daglie che è un massacro daglie quanto mi piace fa il tank anche in realtà mi piacerebbe prenderli pure a botte però eh allora io vado a prendermi il tipo allora ma i tipi lassù sono nostri però sì se vi mettete vicino penso che riesco a curarvi eh dove sei? vai sono questo siamo agenti della divisione abbiamo eliminato la minaccia al perimetro bravo tutti dietro al cartello ahahahah dai eh però io non ben butto eh il mio guarda ma non si butta vogliono uscire a qualunque costo se quelle bombe saltano sappiamo bene come andrà a finire eh lo sapete tutti come andrà a finire se saltano allora ragazzi qui ora che arriviamo sotto poi dobbiamo risalire di velocemente sopra perché altrimenti non ce la facciamo a difendere ok ok va bene eh 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 sull'ambulanza eh io sono uno che sta al centro dell'attenzione guardali la guardali la state attenti eh si si questi due saliamo torretta dai è grandissimi hanno fatto tutto loro io vengo qui e faccio i giorni messi andiamo su andiamo su andiamo su ho chi che adesso spuntano eh ragazzi si il massimo ci deve interessare attenzione le meci in arrivo verso la tua posizione ok tutti qua sotto il muretto come ma mi sa che ce ne vuole qualcuno anche di lambado io di qua ah no mi silenzio c'è lui la peppa c'è successo oh oh sono passato dall'altra parte io c'è un viola ricchi ma che fai no perché è successo un casino è successo un casino cos'è successo c'è il fulcidore da cecchino cazzo di cosi rapidi qua ma maledizione cosa ci fai te di là vieni di qua Milo no cosa fate dall'altra parte opposta eh infatti devi curare devi curare eh curo io al volo non posso ok ok tu ti cure eh qualcuno pensa al cecchino lei in alto penso io che penso a me che penso a me guarda come sta morendo l'ho mandato l'ho mandato come lavora nemici in arrivo come vieni qua dove vai dove andate ahah è un po' di critico un'altra parte mi fa andare a cambiare qualcuno ha fatto cadere il birri guarda la torreta guarda la torreta guarda la torreta metto la bombetta ma come cazzo l'ho messa la bombetta no vabbè ma ti devi togliere non vedo anche io siamo troppo vicini vicini c'è un'orgia qua c'è in quattro contro il mondo c'è veramente un massacro noi stiamo massacrando tutti che è successo? vedeteli tutti che sono ancora su dove deve arrivare il boss? mamma mia ce ne sono un macello oh ci stanno i boss via 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 una parola io sono bloccato qua no ricco a pochissima vita non riesci a curarlo adesso però forse guarda dov'è guardalo guardalo ok vai grande chi altro c'è? questo maledetto perché ha detto obiettivo fallito? oh guarda che è morto Rico forse hanno distrutto c'era passato qualcuno? è passato qualcuno mi sa che è passato qualcuno cosa vuol dire è passato qualcuno? ah che se passa qualcuno di sotto è un casino ah ma dobbiamo stare un po' più giù allora eh sì allora io rimango qua con questa dizia io allora facciamo no 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 facciamo due e due no? io faccio da ci dividiamo o ci schiotto? attenzione nemici in arrivo verso la tua posizione ma facciamoli entrare non è più saggio rimanere qui eh io faccio da staffetta Lara stai lì non fatteli entrare se li vedi arrivare lei signora per cortesia si sbrighi no? io non lo so guarda ci sono sombrati tipo che c'è l'ha fa' sta cosa? ma che sta a fa' se non sape sto attaccato a due fili io ho finito i miei kit personali via 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 sì sì tranquillo che io mi in qualche modo mi signorina mi scusi ne ha per molto oh è difficile sta missione eh beh sì mi butto la torretta lì se no vengono avanti ok Ricco ha poca vita eh anch'io fa un po' così però aspetta che butto una vita così mi recupero anch'io aspetta che fermo Ricco ok eh ma se sta lì qui non ci stanno da noi comunque diventa inutile eh allora quanto ci vuole? oh venite da aiutare la bella vediamo attenzione nemici in arrivo ti conviene se riesce a curarti vedo qualcosa nemici in arrivo ah bene qui ci ho trovato io un kit medico eh ma ha preso di nuovo porco cane ci ha butto una granata c'è una curatina veloce a tutti che è passato perché te me di Gorick? no c'è solamente la skill quella veloce è molto combat penso se andavamo a far l'altra ok no no sto andando alla grande sì aspettiamo qua però che ne arrivano altri sì io sono andato a prendere il kit medico perché mi salta lancio la torretta così lancio la bomba vai lancio anche io la bomba ma prima il nemico era passato da di qua non so come ha fatto a passare pure eh quello non è che c'è un'altra entrata basta che passa uno di qua basta che passa uno ah ok guarda la torretta guarda la torretta come ci sballa ok non c'è chi non è un tipo andate io sto massacrando il boss viola anche io anche io ok c'è roba vado a prendere la roba è da arrivare il giallo guarda che abito guarda che abito è tutto mio vieni che c'è l'altro vieni guarda che arriva in alta arrivo è una trombata guarda che abito che abito che abito mamma mia che accattone veramente tutto mio tutto mio no sto morendo ragazzi aiutatevi come stai morendo grazie io non ho il kit pronto per curare kit a morto ahia guarda la torretta se non ci fosse la torretta saremmo tutti morti abbastanza guarda come scarrella bellissima la cura veloce per tutti guarda che ci diamo il cambio di Lara che battaglia io devo aumentare il terreno no finzio io non ci voglio credere dai che è così morto la torretta ma dovessi si sposta oh mamma sta morendo penso che ormai sia morto dagli che sei morto mara ma perché sei morto ok ragazzi che panico mamma mia fatto? si e io voglio andare a vedere il mio drop il mio cappellino il mio drop cioè per il cappello manca poco more ma che bello però ma che bello c'è Lara vuoi mettere ah si ammazza che è un figo complimenti tutto mio tutto mio ma mamma mia che roba abbiamo fatto un casino della madonna della madonna wè pirlette tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatac cavalcoli dovrebbe essere ci sono i GPS biasano sa che ha surpasso attenzione all'interno no ha surpasso allora basta qua fornimenti rad sono su di sopra va che ho trovato va che ho trovato una bella armetta una bella armetta i fornimenti la cippa ci rimane una cippa non mi fa fare la rama porta via il drop sempre li porta via lei attenzione attenzione qua esplode tutto si qua c'è i tipi ma porca miseria ho messo la torretta qua siamo un po' nella cacca qua si siamo veramente messi male due sopra e due giurati da un po' c'è cazzo ma vaffa il lovo ma guarda tuo cazzo l'ho tirata ma io non lo so ma io non lo so ma guarda ma guarda ma guarda che si brutti ceffi via 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 sto pure morendo no lara non morire non morire non ce la sa non ce la sa oh oh mollami c'è un giallo c'è un giallo c'è un cinese ma sono giapponese lo hai su troppe dai maledetto ma poi morì ecco sono morta io no rianima fai rianima si ci sono ci sono thank you thank you mando anche una curezza bravo che io sono senza ehm no l'ho presa sicuro io ti vedo sempre dai equipaggi un po' dei birrette fresche magari oltre ai kit medici dai 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 che mi sento oggi mi sento proprio un vena di massacra a tutti eh ma poi se prendo troppe birrette non riesco a mirare a voi ma quale ci dai a noi mica te te devi stare sobbio devi fare il fornitore non devi fare eh tu devi fare il fatto povero tu devi sempre stare sobbio ma qui arrivano pure i cecchini eh cecchini attenzione ai cecchini dark non può mai bere mai ok uno è andato del cecchino eh ma tu stai colpendo attraverso il vetro? oh beh no l'altro cecchino è mio lassù dove va questo? no cosa fa? perché non esce? suicida esci fora è morta poi come è morto male ma non ti curo di niente invece a Lara la cure via a Lara la fullo perchè lui è il livello più alto ha più vita aaaaa guarda la Lara là in alto oh Lara guarda come muore bene sto morendo ho notato non so non mi ricordo come si sale lì sopra non lo so control di qua però dal pullman dal pullman dal pullman dall'altra parte del pullman però solo che io non c'ho il kit pronto quindi non so perchè sto salendo vabbè l'Ariani mi dai casi qui ci massagrano eh ci massagrano la vita l'ha detto questo mio qua sopra ah grande Rick non c'è anche attraverso la macchina lo spacco di botte quello lì bam si è preso il 300 pallotole quello lì da solo ma guarda Milo dove va ma in sto gioco c'hai il lanciarazzi Milo dove stai andando? sai che c'è? il lanciarazzi c'è il lanciarazzi attenzione che c'è un cecchino a me ma cecchino eh no lo so lo so lo prendi perchè io non posso muovermi da qua ce l'ha con me mi sta cecchino anche a me non è bella sta cosa no mi mangiano qualcosa va eh controllo anch'io se c'ho qualcosa c'è dell'acqua no no sto morendo sto morendo sono morta ferma lì ferma lì sono morto volevi andare a salvare la arrivo arrivo sono morto c'è Milo Milo mi sa che è morto pure lui non lo vedi dai eccolo Milo grande Milo mi dice salvare mi dice salvare siamo qua dietro dove c'è un tipo siamo dietro la macchina no 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 occhio dietro occhio dietro ma lui non ti può colpire mentre sei qua no 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 niente niente non ce l'ho fatta tutti a terra c'è solo Milo che resiste guarda è un duro vai Milo tira su vediamo se riesco ad andare vicino a Milo io mi sto a trascinare ragazzi tira la cura tira la cura adesso tira la cura perché sennò ci morirò grazie io sono qua è sempre l'ultimo che rimane astrisciando per terra con verde dove sei? qui qui la trovarai Darko ti posso tirare su nooo Darko Darko oh ma guarda che ce l'abbiamo qui dietro Lara non morire di nuovo Lara 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 io asciuto cazzo sei morto tu eh ma porca madre mi tiri su prima che se ne vadi Milo che se ne vadi che se ne vadi soprattutto sei lontano non posso tirarti su aspetta forse da qua strategicamente mi abbasso sto mancando io ti vedo aspiri ragazzi Lara è ancora viva si tu 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 al stile dell'infarto eh no che cazzo è rola però mi hanno massacrato Ricky tiratevi su cerco di venire io da voi state riparati c'è il giallo ecco il giallo ecco dove ecco perché sì ma sei allo scoperto me la fugo me la fugo me la fugo è un tirarsi sulla vicenda sì che mi piace stare sdraiato guarda Darko subito lo dietro al muretto come siamo messi di vita mi venite tutti indietro così ve la do a tutti la vita tutti vicino ad Darko facciamo una cosa buttiamogli una bombetta uno è sceso senti come si lanciano le bombe io seleziono io ho quello è mezzo morto quel giallo la ecco uno è andato no 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 attenzione ok fatto le bombe rara devi usare la freccia a sinistra se hai il fatto per selezionarla no poi no selezionata come la lancio con il grilletto ah con il grilletto selezioni con la levetta a destra dove lanciarla e sopra dell'alone giallo e prendi il grilletto ah ok c'è un verde di sopra guarda tutti e due la sopra va bene che colpo che hai preso ma non me la dà millo vabbè degli altri credo non fa bombe eh e io seleziono dove io vedo innanzitutto premuto e selezionare la bomba ma tutto sta anche nevicando va che bello scenario è proprio uno scenario di morte poi ci mettono la musichetta e il premuto e selezionare le bombe e poi fai come ti ho detto io ma non me la spara cioè non me la lancia strano poi hai cambiato qualche tasto damose va vedo qualcosa aspetta però ha detto di un filmato mi sa che abbiamo preso un filmato ah si informazioni ah si se faccio un tab mi fa un filmato civile filmato dei rikers perché affrontano la polizia ce la vede? si allora via vai devo tenere premuto no io non ce l'ho poi è lo stesso comunque l'attimo ho già fatto di squadra l'abbiamo fatto bene bellissimo abbiamo fatto veramente un nuovo doc sdraiati a turno non è morto nessuno non c'è una tossia ma no ci sono dei civili che sono inseguiti da eh da questi qui che stiamo uccidendo grazie a Milo Lailander no poverini sono rimasti bloccati ma lasciali morire che sono negri no sono cinesi no lo sta strozzando ma cos'è sta scena ma la camera che io non la vedo eh è un filmato no filmato l'avete visto scusate quello delle telecamere filmato civili filmato civili l'avete visto sì io ho visto quell'altro filmato rikers aspetta forse c'è ah quello della macchina ah vediamo c'è un lupo enter io vedo una macchina della polizia che va in un vicolo esatto bravo quello io ho visto prima adesso sto guardando quello che avete visto voi bene guardiamo i video invertiti oh oh si è caduto un poliziotto è volato giù ho sempre detto che siete degli invertiti sì vabbè ma se ne va così ci ha sporcato il vetro ma guardalo ci ha sporcato il vetro ah sì il poliziotto lo fa ballare sulla macchina e questi qua non li investe ma c'è qualcuno appeso un po' tutti sono appesi vabbè allora finiti i video cosa si fa si va avanti con la missione che non è finita non è ancora finita bene questo sta a far ginnastica ah bene devo riscaldarmi un attimo fa freddo qua guardate che bella la neve ci vuole un bell'albero di natale mo dubbirette pandorino olè siamo fuori sì finalmente missioni voglio segolare eh c'è la lei le missioni dai sì da lui è giorno eh sì allora dai questa puntata di oggi di The Vision è finita no che sei a far Darko sta buono mettila in fila sta scappando deve andare devo andare in bagno vai vai saluta saluta tu vai allora quindi direi che è finita la puntata ci possiamo vedere in un prossimo video se il video vi è piaciuto potete iscrivervi iscrivervi sui nostri canali che vi lascerò sia io che gli altri in descrizione da Darko Clo Lara The Gamer e Emilio Emilio è tutto tutti belli presenti ci siamo tutti mi raccomando bella a tutti ragazzi ad un prossimo video bella ad un prossimo video ciao 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 è Milo di schiena ciao ciao no è dritto è l'altro che applaude è Cominale Grazie a tutti.